La chiesa parrocchiale di Limger, è dedicata all'assunzione della Beata Vergine Maria. Fu costruito tra il 1912 e il 1946 sul sito di una precedente chiesa che esisteva dal 1400 circa. Una piccola chiesa dedicata all'assunzione di Maria fu fondata a Limger, intorno al 1400, e fu restaurata nel 1600. Il villaggio faceva parte della parrocchia di Mosta, fino a diventare una parrocchia separata il 12 ottobre 1898. La vecchia chiesa divenne quindi un chiesa parrocchiale, ma i residenti volevano costruire una chiesa nuova e più grande al suo posto. Girolamo che tecuti, allora parroco, organizzò una campagna per raccogliere fondi per la nuova chiesa, e acquistò il terreno su cui fu costruito l'edificio. La prima pietra dell'edificio fu posata il 2 giugno 1912. La nuova chiesa fu costruita intorno a quella vecchia, che fu demolita nel 1918. Nella progettazione e costruzione della chiesa furono coinvolti diversi muratori e capomastri. I progetti iniziali furono redatti da Giamri Camilleri, che curò anche la copertura della sacrestia e di alcune cappelle insieme al costruttore Indri De Guara. Censu Galea ha curato le fasi iniziali della costruzione e i piani della cupola sono stati redatti da Gio Maria Camilleri e Gianni Acilia. Camilleri curò la costruzione della cupola. I residenti di Imager, hanno contribuito alla costruzione della chiesa fornendo mano d'opera e vendendo uova, frutta e bestiame per raccogliere fondi. Quando l'edificio era ancora in costruzione, una parte di esso fu temporaneamente coperta per consentire la celebrazione della messa all'interno. Tra il 1933 e il 1935, per opera del parroco Edgar Salomone, alcuni edifici furono espropriati dal governo e demoliti per far posto ad una piazza e ad un sagrato antistante la chiesa. Due campane furono installate nei campanili il 1 settembre 1935.